Movimento 5 Stelle è pronto a cogliere le opportunità del voto referendario e a sfruttare il momento favorevole a livello nazionale e regionale. Questo è il commento del parlamentare regionale Saccienza, Matteo Mangiocavallo, alla vittoria del no. Ha vinto la partecipazione, hanno vinto i cittadini, ha vinto la democrazia e ha vinto soprattutto la Costituzione italiana. Non c'è vittoria più bella di quella che è avvenuta in queste ore, perché tantissima gente finalmente è andata a votare, prendendo consapevolezza di quelle che erano le possibilità che aveva di fronte, non si è fatta bindolare da quella che è stata una campagna mediatica, dico di regime, informativa di regime, non si era mai vista in tutti gli anni della Repubblica italiana. E devo dire che i meriti di questa riforma sono stati ben compresi da chi ha votato e chi ha votato no. Elezioni subito non solo a livello nazionale. Il capogruppo all'Arsa ritiene che quella di domenica sia stata una sconfitta anche per il governo Crocetta. Noi ci auguriamo che si vada le elezioni al più presto, soprattutto a livello nazionale ma anche a livello regionale, perché la sconfitta di Grenzi a Roma è una sconfitta di Crocetta in Sicilia, di Faraone, dei vari baccei. Di chi ha sostenuto questa riforma come se fosse se propria e di tutti i renziani che praticamente lo hanno circondato. Quindi ci auguriamo che si faccia un passo indietro anche in Sicilia e che si vada le elezioni presto qui, che si vada le elezioni presto in Italia. Questo sì è una richiesta che abbiamo fatto e continueremo a fare, anche se siamo coscienti che non si smuoveranno dalle loro poltrone.